come vuoi tutti? famiglia è una chata di cioccolata cremina però non è ingazzata stasera come una macchiamata allora si chiama Carmen e io voglio chiamare Carmencita Carmencita la spagnolita perché stanno andando a casa a me ma che mi fanno? che mi fanno con questa stacca? ragazzi panino Lulù ma che mi fanno? allora ragazzi è una mousse di tre strati cioccolato, nocciola, panina cioccolato bianco cioccolato blanco Carmencita Carmencita e insieme andate ad assaggiare sui dolci Carmencita è come si chiama la Tenerife santelmo pass cristiano ciao ciao io pass Grazie.